Nella video lezione di oggi parleremo della biografia di Vittorio Alfieri, ci soffermeremo sulle tappe fondamentali di questa biografia. Vittorio Alfieri nasce il 16 gennaio del 1749 ad Asti, ma l'anno successivo morirà il padre e a causa del nuovo matrimonio della madre sarà costretto a spostarsi a casa del patrigno e qui subirà un'educazione molto molto rigida impartita proprio dal patrigno. Un anno importante è il 1758 quando appunto i genitori di Alfieri o comunque chi si prendeva cura di Alfieri, decidono di far iscrivere Vittorio all'Accademia Reale. Saranno anni molto molto importanti ma anche molto difficili. Alfieri è un carattere di belle per cui mal sopportava quelle regole molto forti, molto rigide presenti nell'Accademia reale. Vi passa appunto gli anni tra il 1758 e il 1766 per poi lasciarla e dare inizio alla cosiddetta prima stagione di viaggi tra il 1768, il 1766 e il 1768. Viaggerà in Italia ma anche in Francia, in Inghilterra e in Olanda. Perché Alfieri comincia questo tour? Innanzitutto c'è una ragione che accomuna Alfieri che era di nobile famiglie alla nobiltà del settecento più in generale. Cioè era una prerogativa della nobiltà questa di esplorare il mondo, fare viaggi di istruzione appunto. L'istruzione era completa nel momento in cui si andavano anche a conoscere paesi che non erano quelli dove si era nati. Ma c'è anche un'altra esigenza specifica di Alfieri, nel senso che in lui è molto forte il bisogno di cambiare costantemente luogo, si sente assalito dal tedio a stare fermo in un solo luogo e a tutto questo si aggiunge il suo amore per l'avventura, per il rischio, per il limite che poi caratterizzerà anche l'eroe al Cieriano, tanto nelle rime quanto nelle tragedie. Dopo questa prima stagione di viaggi ritorna a Torino per un brevissimo soggiorno. Si tratta di pochi mesi, verso la fine del 1768 e l'inizio del 1769. Qui legge l'Illuministi, legge le vite parallele di Plutarco, che poi saranno di stimolo anche per le sue tragedie, ma per tanti spunti che troveremo nelle sue opere. Nel 1769 comincia con la seconda stagione dei viaggi, questa come la precedente e come anche gli altri episodi su cui ci stiamo soffermando, immortalati anche dalla vita scritta dallo stesso Vittorio Alfieri. È una seconda stagione di viaggi molto intensa, riguarda gli anni dal 1769 al 1772 e in questo periodo Alfieri comincia a visitare paesi che non aveva visto prima, paesi nordici come l'Austria, la Germania, la Danimarca, la Finlandia, si spingerà fino alla Russia, torna per un secondo soggiorno in Inghilterra, qui incontra e si innamora di Penelope Pitt, la prima delle donne che caratterizzeranno la sua vita e poi un altro soggiorno in Spagna, in Francia, poi in Spagna e quindi in Portogallo. Tra il 1773 e il degli anticonformisti già si nota lo spirito ribelle, frequenta Gabriella Faletti, anche questa donna sposata e quindi in una relazione extraconiugale, pare che durante la malattia di questa sua amante fosse nato in Alfieri, così come ci racconta, l'amore per il teatro e quindi si comincia a scrivere durante la malattia di questa donna la Cleopatra. In effetti l'interesse del teatro poi sarà preponderante per Vittorio Alfieri perché riguarderà un arco di tempo molto molto vasto tra il 1775 e il 1782. Ci sarà poi il definitivo abbandono di Torino, anche per ragioni ideologiche, Alfieri comincia a scrivere e ritiene di non dover pagare delle tasse nei confronti del regno di Sardegna, lui che aveva deciso di trasferirsi a Firenze per perfezionare la lingua. Senti il bisogno, soprattutto quando scrive tragedie, di avere una lingua che possa, in qualche modo, rappresentare degnamente questi drammi. Alfieri si rende conto che l'italiano non è una lingua da teatro tragico e quindi decide di compiere questo viaggio a Firenze per stare più vicino a quella città e a quella regione in cui era nato l'italiano, comunque il dialetto fiorentino, che da ben poi in poi viene indicato come punto di riferimento per tutti i letterati. Lui quindi decide di diventare letterato, abbraccia pienamente questa missione e a Firenze incontra anche un'altra donna, una donna questa volta molto importante, Luisa Stolberg, contessa d'Albany, che starà vicino al poeta fino agli ultimi giorni della sua vita. Decide quindi di trasferirsi stabilmente a Firenze, quindi non è soltanto un viaggio di istruzione quello di Firenze e la Toscana, ma decide di non tornare più per le ragioni che abbiamo sopresposto a Torino. Tra il 1781 e l'83 ci sarà un breve soggiorno a Roma, i due si trasferiranno a Roma, ma la corte papale o comunque un ambiente troppo vicino alla chiesa malvedeva, mal tollerava questa unione tra questi due personaggi. Il nostro poeta passa degli anni, quindi tra il 1783 e l'87, a ultimare le tragedie, quindi a completare le ultime tragedie e si dedica anche ad altre opere, comincia anche a porre in essere quell'autobiografia che poi insomma finirà di scrivere gli ultimi anni della sua vita e dopo soggiorno in diverse parti d'Italia si trasferisce a Parigi nel 1786. Firenze rimane fino al 92, vive in Francia, vive a Parigi, ma non solo, vive un periodo molto particolare perché Alfieri vive nella Francia rivoluzionaria, nella Francia dove scoppia la rivoluzione francese, ma la Francia che vede anche quelle che sono le conseguenze della prima fase della rivoluzione francese, in una seconda fase populista, in cui alcuni degli ideali che avevano spinto il popolo a ribellione nel 1789 vengono di fatto traditi. Lo stesso Alfieri se all'inizio rimane entusiasta di questa rivoluzione e ovviamente degli ideali che questa rivoluzione può portare, alla fine se ne distaccherà sempre di più e quando deciderà di lasciare la Francia sarà un Alfieri profondamente ormai deluso anche dagli esiti della rivoluzione. Gli anni dal 1792 al 1803 li passerà a Firenze e l'8 ottobre del 1803 Vittorio Alfieri morirà nella città toscana.